Sapevate quanto ha guadagnato il Napoli in questa stagione di Champions League? Vi diciamo la cifra esatta. Un cammino impressionante, soprattutto nei primi mesi, quello degli azzurri nella massima competizione europea. Le partite d'andata e ritorno contro Liverpool, Ajax e Rangers rimarranno sempre impresse nelle menti dei tifosi partenopei. Il calcio espresso dalla squadra di Spalletti, che è stato ammirato da tutta Europa, è stato uno dei più moderni possibili e allo stesso tempo anche incredibilmente efficace. Il sogno azzurro però si è infranto ai quarti di finale contro il Milan. L'eliminazione è stata accolta dal popolo partenopeo con grande amarezza, ma il pensiero dell'imminente scudetto ha risollevato in fretta e in furia una città. L'approdo però per la prima volta nella storia del club tra le migliori otto squadre d'Europa è stato determinante anche dal punto di vista economico 78 per la precisione i milioni entrati nelle casse del Napoli con la possibilità dunque di investire questo tesoretto nella prossima sessione estiva di calciomercato per costruire una squadra ancora più forte.